ciao ragazzi benvenuti al nostro tutorial di natale nostro naturalmente di mio e di pecora oggi vorrei raccontarvi una foto quella che vedete che è una foto scattata a tolfa tolfa è un paesino molto bello molto carino in cui ho già fotografato in precedenza vorrei raccontarvi un attimo come sono arrivato a questo scatto che è una foto scatta abbastanza problematico un po salvato recuperato in post produzione quindi questo sarà un tutorial prevalentemente di post produzione diciamo intermedio avanzata faremo uso di lightroom e faremo uso anche di photoshop io ho già fotografato in questo paese sono tornato qualche giorno fa in realtà con l'intento di fare qualche foto con il drone vi racconto in retroscena perché vi faranno anche capire il motivo insomma perché poi ho scattato le foto in questa maniera quindi le volte precedenti avevo già scattato dai punti migliori quelli che secondo me erano i migliori quindi diciamo ero molto libero da questo punto di vista l'idea era andare lì piazzare un paio di macchine fotografiche perché non si sa mai ma nel frattempo fotografare con il drone in realtà quando sono arrivato sulla rocca dei frangipane che domina tolfa con un paesaggio meraviglioso c'era un vento e un freddo veramente impressionanti un vento che rendeva praticamente impossibile volare in sicurezza con il drone ho provato ad alzarlo diciamo con grande cautela ma non c'erano le condizioni per per volare tranquillità diciamo così per cui ho dovuto rinunciare il vento era talmente forte che non c'erano nemmeno le condizioni per fotografare perché comunque il treppiedi non riusciva a rimanere stabile quindi l'unico punto di ripresa possibile si è rivelato essere praticamente all'interno della rocca riparati da un muro che in qualche maniera bloccava le folate di vento guardando verso il paese da un'apertura insomma da una finestra allora ho piazzato due macchine fotografiche sullo stesso treppiedi verso l'unica inquadratura possibile a quel punto diciamo non mi aspettavo un granché da questi scatti era abbastanza demotivato e infatti tutto sommato probabilmente non sono i miei scatti migliori fatti fatti a tolfa però ugualmente secondo me vale la pena ragionarci insieme per capire come recuperare anche una situazione sfavorevole con una post produzione magari un po creativa quindi non so se questo scatto finale piacerà a tutti per molti probabilmente sarà una post produzione un po estrema perché come vedremo andremo insomma a cambiare parecchie cose ma spero che comunque la pensiate e che vi piaccia o meno imparerete qualche strumento utile durante questo nostro percorso allora vi faccio vedere le foto che ho realizzato ho piazzato due fotocamere una xt3 e una xt2 e ho scattato con dei bracketing allora ho impostato tutte e due le macchine a priorità di diaframmi però con due diaframmi diversi ora vi racconterò e con entrambe le macchine ho scattato con un intervallometro ogni tre o cinque minuti a seconda delle variazioni della luce e ogni scatto era un bracketing da 5 stop allora andiamo a vedere un secondo così capiamo meglio il tipo di foto che abbiamo allora la prima cosa che devo fare siccome qua ci sono gli scatti di due macchine fotografiche insieme e sono tutti bracketing non ci si capisce niente allora la prima cosa da fare è cercare di ordinare un po le cose allora io faccio in questa maniera così vi racconto anche un po come come procedo intanto vado a separare gli scatti di una macchina dagli scatti dell'altra ecco per esempio queste sono foto fatte con la xt3 e su cui ho usato un obiettivo 18 55 queste sono le foto fatte con una xt4 con obiettivo 10 24 poi queste foto le vado a raccogliere in due raccolte appunto quindi ho messo tutte le foto della t3 all'interno di una raccolta che chiamo cam 1 camera 1 tutte le foto della t4 le seleziono tutte le metto all'interno di una raccolta che chiamo cam 2 adesso andiamo a spegnere i filtri e andiamo a capire cercare diciamo così di capirci qualcosa allora iniziamo dalla cam 1 che era appunto la t3 allora come vedete è piuttosto un disastro ho iniziato a scattare molto presto contro luce proprio sparato del resto questa qui era l'unica inquadratura possibile ma sicuramente non immaginavo di tirare nulla di fuor nulla da questi scatti l'idea era avere uno scatto comunque del tramonto o meglio ancora dopo il tramonto dell'ora blu comunque vedere che ho cominciato a fare dei bracketing già da prima qua sono le 16 38 quindi in prossimità del tramonto questo è con un obiettivo 18 55 mm allora questa fotocamera era impostata inizialmente con un diaframma 22 per cercare di avere ecco questo minimo di stelle di effetto stelle sul cielo ma poi man mano che il la luce scendeva ho modificato le impostazioni come vedete f8 quindi priorità di diaframmi iso al minimo 160 tempo di scatto regolato automaticamente naturalmente dalla fotocamera bracketing da 5 stop intervallometro ogni 3 minuti più o meno mediamente questo ha prodotto la serie di scatti che vedete allora andiamo a vedere da un punto compositivo da un punto di vista compositivo quelli che stanno un pochino più avanti perché quelli prima come vedete diciamo non hanno senso oltretutto c'è questo flare estremo dovuto dal fatto di scattare proprio contro luce piena però andando avanti con il tempo insomma passando dalle 16 e 20 16 e 30 fino agli ultimi scatti che sono delle 17 e 12 17 11 insomma nell'arco di questa mezz'ora sono cambiate molte cose il cielo per esempio è andato decisamente migliorando allora io in questo per fare una selezione opero in questa maniera cominciamo dal cielo allora vado a cercare di capire quali tra gli scatti del bracketing è lo scatto migliore per il cielo quindi confrontiamo per esempio questi cinque scatti sono fatti più o meno verso metà della sessione fotografica questo è lo scatto normale questo è lo scatto meno 1 meno 2 più 1 più 2 allora mi sembra che questo sia quello in cui c'è un buon dettaglio del cielo qui come vedete è ancora bruciato e qua è un pochino al limite allora che cosa faccio vado a selezionare tutti questi scatti va bene cioè tutti i meno 2 ok per fare questo io vi consiglio di vedete io imposto la schermata in modo da vedere 10 immagini su una riga il motivo è che sono bracketing da cinque scatti così posso selezionare tutta una fila è una banalità ma se io li avessi messi diciamo così dovrei andarmeli a cercare sarebbe molto più complicato quindi è una stupidaggine ma mi fa risparmiare tempo ingrandisco diciamo così i thumbnail fino ad avere esattamente cinque immagini su 10 3 4 5 1 2 3 4 5 10 immagini su una riga così so che tutte quelle che mi devo andare a selezionare sono queste ok questi sono tutti gli scatti meno 2 sono andando a valutare il cielo adesso posso confrontarli in questa maniera premendo n li vedo tutto insieme posso già andare sicuramente a scartarne alcuni oppure posso semplicemente partire dal primo e andare a vederli uno per volta quando ne trovo uno che mi piace gli assegno una stelletta o due stellette siamo ripartiti da capo ecco questo direi che probabilmente è uno degli scatti tra questo e questo insomma la cosa naturalmente è abbastanza soggettiva ecco questo mi piace perché c'è più blu sopra che probabilmente potrò andare a tirare fuori non c'è niente di bruciato nell'istogramma posso sicuramente recuperare questo cielo anche questo è uno scatto buono sono molto simili insomma una questione poi di preferenze personali io vado a scegliere questo scatto e come vedete gli ho assegnato due stellette quindi questo sarà il mio cielo naturalmente il primo piano è completamente scuro poi facciamo la stessa cosa per il primo piano allora il primo piano presumibilmente me lo andrò a prendere o da uno scatto 0 o dallo scatto più 2 quindi o da qui o dalla prima fila o dalla quinta fila vediamo un po' posso anche andare a confrontarle entrambe quindi faccio così faccio così poi faccio così e faccio allora devo trovare una foto che abbia queste caratteristiche che abbia sufficiente dettaglio nel primo piano da poter costituire appunto un primo piano interessante e che però non sia troppo troppo presto cioè che sia già nell'ora blu perché l'idea è andarci a mettere le luci e andarla a unire con il cielo che abbiamo scelto un attimo fa quindi non deve essere troppo luminosa e poi vorrei che non avesse questi problemi di flare che dovrei poi andare a correggere in maniera molto complicata quindi scartando tutte le foto problematiche insomma che cosa rimane allora qui ecco come vedete io ho selezionato alcune di queste ho selezionato precisamente questa che è una foto in cui c'è un ottimo dettaglio nelle ombre ma il cielo è molto molto chiaro è molto molto luminosa quindi tutta la foto è molto luminosa quindi sarà un po' difficile andare a unire questa foto con quel cielo così scuro poi ho selezionato questa che è una foto vedete un pochino più scura ma dove c'è ancora un buon dettaglio nel primo piano e poi ho selezionato questa dove ci sono delle luci molto interessanti però il dettaglio poi nel nelle ombre è molto poco e il cielo è molto molto chiaro quindi alla fine di questa operazione io vado a scegliere vado a selezionare le foto che hanno almeno una stelletta queste sono quelle che ho preso come vedete non sono tutte foto che appartengono allo stesso bracketing appartengono a bracketing diversi perché sono scattate in momenti diversi questa da cui presumibilmente vorrei andare a prendere il primo piano è scattata alle 16 e 56 questa da cui potrei recuperare le ombre ma non so se la userò è dello stesso bracketing dalle 16 e 56 è quella un pochino più chiara mi serve qualora questa risultasse troppo scura per recuperare le ombre il cielo invece è delle 17 e 11 quindi è molto dopo molto più più tardi e le luci sono più o meno dello stesso periodo 17 e 11 e 21 secondi o bene questa è la foto vedete è qua giù quindi è una delle ultime in cui ormai le luci erano troppo accese erano tutte accese adesso che cosa vogliamo fare vogliamo cercare di andare a metterle insieme prima di fare questo però vediamo qual è il risultato dell'altra fotocamera la l'altra macchina che avevo impostato in una maniera diversa allora questa l'avevo impostata con un grandangolare 10 mm 10 24 impostata appunto a 10 mm per andare a incorniciare il paese e in questa roccia ora prevedevo naturalmente questi sono elementi di disturbo questa ringhiera e questa corda prevedevo di doverli clonare naturalmente in post produzione qualora questa inquadratura avesse funzionato meglio quello che però poi diciamo non ha proprio funzionato e questa luce che avevo visto ma diciamo speravo che non si accendesse in ogni caso volevo una seconda inquadratura se vedete se andiamo a scendere anche qua acquisiamo in prossimità del tramonto ma se scendiamo e andiamo un pochino più al tramonto o allora blu l'inquadratura sarebbe anche abbastanza interessante ora il flare naturalmente sparisce però che succede si accende questa luce e questo è un problema in più perché ora andare a clonare questa immagine diventa più complicato d'altra parte mi piaceva abbastanza il il riflesso delle luci un po sulla roccia però giudicato che il lavoro necessario per andare a clonare queste immagini questa luce rendere tutto naturale tutto sommato dovendo clonare poi anche la ringhiera eccetera non fosse alla fine giustificato però questa insomma è un po una scelta personale quindi ho deciso di abbandonare questo tipo di inquadratura e scegliere l'altro ma il lavoro sarebbe stato sostanzialmente lo stesso cioè sempre cercare poi di andare a prendere una foto del primo piano unirla con le luci del paese e unirla con un cielo non bruciato diciamo con un cielo interessante quindi scartata questa inquadratura andiamo a lavorare su questa ok adesso entriamo nella nostra posposizione vera e propria le foto che mi servono innanzitutto saranno queste tre questa me la sono selezionata perché non si sa mai ripeto io credo per esperienza che da questa foto io possa andare a recuperare quel po di ombre che mi servono comunque l'immagine finale dovrà essere piuttosto scura perché io a questa foto dovrò andare a sovrapporre questo cielo e quindi vedete che primo piano che c'era qua cioè non è che posso andare a mettere un primo piano brillante luminoso su questo cielo non avrebbe senso quindi questa funziona meglio però siccome voglio anche un po di dettaglio nelle ombre se non dovessi riuscire a recuperarlo da qua mi sono già selezionato questa che ne ha a bulerne e che quindi potrei andare a utilizzare allora prendiamo questa che è il mio primo piano andiamo nel modulo sviluppo adesso dobbiamo fare una sorta di sviluppo del raw non dobbiamo fare nulla di troppo estremo perché poi andremo a fare un po tutto a perfezionare tutto in photoshop naturalmente allora prima cosa scelta del profilo di colore questo è il nostro adobe color ovviamente non ci interessano i profili monocromatici adobe landscape già mi piace di più perché tira fuori un pochino più di dettaglio nelle ombre contrasto un po più basso portrait standard vivid no velvia questi sono i profili della fuci il propria standard anche va abbastanza bene il velvia no lo trovo troppo 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 giallo e troppo contrastato preferisco in questo caso la dubinensky poi cerchiamo di andare a regolare le cose ripeto con l'obiettivo di andare a unire questa foto con il nostro cielo allora prima cosa andiamo a diminuire un pochino l'esposizione perché insomma è tutto molto luminoso devo unirlo con un cielo molto scuro facciamo per ora meno 0,4 poi posso sempre andare a rivedere queste cose perché mi terrò gli oggetti avanzati in photoshop quindi posso sempre tornare sulla mia decisione andiamo ad aumentare un pochino la chiarezza e la rimozione foschia per tirare fuori un po di dettaglio qua negli alberi e non voglio fare moltissimo però voglio andare a recuperare il più possibile le luci vedete che c'era che c'era un disastro è completamente bruciato non c'è informazione però andare a recuperare le luci mi serve per avvicinare un pochino questa questa immagine nella zona di confine tra cielo e terra con l'altra e poi andrò ad unire che qui a maggiore dettaglio quindi recuperiamo le luci al cento per cento poi andiamo a fare un gradiente sul cielo e andiamo ancora sul cielo a diminuire l'esposizione meno uno a recuperare ancora le luci e basta la rimozione del rumore a 40 posso anche lasciarla così ora devo decidere esattamente dove collocare questa sfumatura ok allora qua devo andare cioè allora qui io andrò a unire questa foto con il cielo quindi mi va bene che questo mi vada a scurire un po il primo piano forse non troppo proviamo a lasciarlo così e poi ripeto eventualmente ci torneremo perché mi va bene se me lo va a scurire perché questa parte più scura si fonderà meglio con il cielo che è più scuro di questa immagine ok questa lasciamola così andiamo un attimo a lavorare su questa che è l'immagine delle luci le luci vanno abbastanza bene tutto quello che voglio fare è forse valutare un attimo la temperatura ma direi che va bene così com'è le alte luci sono un pochino bruciate come vedete al limite della bruciatura quindi andiamo andiamo anche qua a recuperare le alte luci ok poi dopo lavorerò in photoshop per magari fonderle non al 100% di opacità al 70 all'80% nelle zone per esempio qua in cui queste altre luci sono bruciate comunque vedete intanto recuperiamo quello che possiamo darò ecco poi dopo andremo a lavorare in photoshop per perfezionarlo va bene questa non c'è altro da fare tanto da qua devo prendere solo le luci lasciamola così andiamo a prenderci il cielo al cielo ci piace l'unica cosa che vogliamo fare sul cielo e andare a recuperare più possibile le alte luci anche qua e magari andare anche qui a fare ops scusate un bel gradiente un bel gradiente sul cielo che vada a recuperare le alte luci c'è o meno 19 va bene meno 18 a questo punto questo è il cielo che userò quindi qui posso tranquillamente andare a rimuovere il rumore anche a 40 perché così tolgo bene il rumore dal cielo questo questo lo andrò a fondere con il primo piano e poi l'altra cosa che vorrei valutare è la temperatura perché forse siccome mi piacerebbe conservare quel blu che c'era qua sopra allora vado a diminuire un pochino la temperatura in maniera vedete da preservare questo blu altrimenti è tutto un po un po giallo e mi piace questo gradiente arancione giallo col blu sopra che magari potrei andare anche a potenziare un pochino quindi diciamo diminuiamo un pochino la temperatura del colore a meno 15 va bene qua non c'è altro da fare per ora andiamoci a prendere queste tre foto una due tre e quindi queste ora sono quelle che voglio unire primo piano cielo luci ok ci sarà un po di lavoro da fare vediamo se ce la facciamo apriamo le come oggetti avanzati in photoshop aprirle come oggetti avanzati è importante perché in questa maniera io avrò un oggetto sul quale posso fare doppio clic ritornare in camera raw e trovarmi tutte le impostazioni che ho lasciato in lightroom qualora avessi la necessità di modificarle un attimo di pazienza che photoshop apri insomma sono tre ru grandini naturalmente ora il computer sta facendo altre cose quindi è un po pesantito ora facciamo una cosa chiudiamo lightroom che non ci serve più così abbiamo un pochino più di memoria disponibile il computer in questo momento purtroppo sta anche sincronizzando sta facendo dei backup di hard disk e non ho voluto fermarlo quindi un po più lento del normale ma insomma dovremmo riuscire a fare tutto ok allora questa è la nostra immagine di primo piano andiamoci a mettere le altre quindi faccio doppio faccio clic col tasto destro duplica il livello lo duplico sull'altro documento 94 dopo di che questa la posso chiudere faccio la stessa cosa duplica il livello la vado a mettere sull'altro documento e questo lo posso chiudere ora ho tre livelli ecco livello di sfondo cielo luci ok andiamo a mettere prima le luci e poi il cielo allora qua faccio command g e le metto in un gruppo chiamiamo lights e questo anche lui crea un nuovo gruppo lo chiamiamo sky ok dopo di che spegniamo il cielo e andiamo un attimo ad occuparci delle luci le luci sono una cosa più semplice dovrebbero essere in teoria perché tutto quello che devo fare è attivare il livello delle luci vedete questo è il livello di sfondo queste sono le luci sfondo luci quello che voglio fare è attivare questo livello delle luci con una modalità di fusione schiarisci in maniera da tenere solo le luci di questo livello e il resto del livello sotto e poi andare a lavorare con una maschera per andare a spegnere tutto ciò che non mi interessa vedete prima dopo naturalmente questo ora è attivo anche sul cielo ma a me interessa il primo piano prima dopo vedete è il livello sotto che viene illuminato dal livello sopra se invece questo livello io lo mettessi sul normale andrei a prendere il nuovo livello che però ha un dettaglio diciamo inferiore di quello sotto quindi sarebbe subottimale come cosa quindi è meglio prendere il livello sotto questo e andare a metterci il livello con le luci cioè andare a metterci solamente le luci quindi in modalità schiarisci in maniera che appaiano le cose più chiare cioè le luci adesso andiamo a farci una maschera andiamo a escludere da tutto questo tutto ciò che non ci interessa va bene quindi intanto non ci interessa prendo proprio il lazzo qua facciamo una maschera anche abbastanza grossolana perché tutto quello che c'è qua sopra non lo vogliamo prendere quindi andiamo a riempire direttamente di nero adesso vediamo un po allora aspettate un attimo fatemelo mettere ancora un attimo sul normale e vediamo ok cancelliamo un attimo la maschera tra un attimo la rifaremo cercando di capire che cosa voglio eliminare effettivamente da questo livello cioè che cosa quali di queste luci non mi interessano e voglio andare ad eliminare quindi rimettiamolo ora in modalità schiarisci ok allora facciamo così andiamo a eliminare tutta la parte superiore del cielo con un gradiente quindi prendo un bel gradiente da nero a bianco e deve essere deve diciamo essere tutto nero fino a qua e poi andare ad applicarsi solamente nella parte inferiore ok adesso qui applichiamo un'altra maschera qui ci prendiamo un pennello nero flusso al 20 per cento e andiamo a cancellare con il nero tutto quello che non vogliamo dal livello con le luci quindi tutte le luci che non mi interessano le vado a eliminare un flusso al 20 per cento mi consente di essere graduale per vedere cosa voglio eliminare cosa no accendo e spengo per esempio questo è qua sotto qua sotto probabilmente andrò comunque a clonare tutto questa parte non mi piace andrò quindi comunque inutile andare a diciamo a illuminarla spegniamo vediamo qua qua mi va bene qua mi va bene qua mi va bene sono tutte troppo brillanti ora tra un secondo andrò qua andiamo a diminuire un pochino sto passando con delicatezza ora sulla tavoletta grafica questa luce qua non mi piace che forse così è troppo la diminuiamo un pochino allora facciamo così intanto questo livello impostiamocelo anziché all'opacità del 100 per cento al 70 per cento anziché così così un pochino meno intensa altrimenti rischiamo di andare a bruciare troppe luci e poi con la maschera ora mi riprendo il pennello vediamo che cos'è che stiamo andando a bruciare se c'è qualcosa qualche luce ingrandiamo un pochino qualcuna come queste allora qui faccio così a questo punto mi metto anche il flusso va bene al 20 per cento ma l'opacità l'ha imposto al 70 per cento in maniera che adesso qui vado vedete a diminuire al 70 per cento alcune di queste luci quelle che mi sembrano troppo brillanti troppo intense o che non mi piacciono le vado a diminuire non voglio sovraesporre quindi dove vedo delle luci che sono un po al margine della bruciatura vado con un'opacità nel 70 per cento in maniera che compaia soltanto il 70 per cento di quella luce vedete a regolare diminuire vedete a regolare diminuire vedete che sono troppo intense queste sicuramente le finestre vanno bene quelle le ho già eliminate qua diminuiamo un po' diminuiamo un po' diminuiamo un pochino questi lampioni vedete erano molto intensi qua c'è questa luce sul balcone che non mi piace io metto l'opacità zero questa la voglio proprio levare non mi piace quella luce non so ok questa diminuiamola questa non mi piace spegniamo qua questo è troppo forte via tutto un discorso un po' di regolazione non voglio non voglio non voglio andare a bruciare non voglio dei punti troppo troppo ok questa qua non mi ricordo se già c'era posso posso ok eliminarla tanto quando andremo a clonare quindi vediamo un po' prima dopo ok mi pare che possa abbastanza andare l'unica cosa che voglio fare vedete che sto andando anche a schiarire un pochino questa parte qua delle montagne questo non mi piace molto allora mi riprendo il mio pennello opacità 100% flusso facciamo 40% andiamo a cancellare questo effetto qua dietro non voglio andare a schiarire queste colline queste poi dovranno essere scure alla fine perché tutta questa immagine dovrà essere più scura di così comunque per poterla unire con il cielo quindi insomma ho nessun interesse ad andare ok devo aumentare un pochino il flusso e essere un pochino più deciso qua a me piace cercare di essere graduale siccome io ho la mano un pochino pesante con la tavoletta grafica di solito uso un flusso molto basso che mi aiuta a essere più graduale allora facciamo una cosa aspettate un attimo il computer mi sta rallentando troppo fatemi mettere in pausa questo backup ok altrimenti qua ci sono troppe cose che stanno succedendo facciamo una cosa lo chiediamo proprio questo backup lo faremo fate pazienza non avevo considerato che stava facendo questa operazione e pensavo che non fosse un grande problema invece ok così chiudiamo questo programma ok adesso abbiamo un pochino più di memoria andiamo a chiudere tutto quello che potrebbe dare fastidio perché c'è già il programma di registrazione dello schermo ok così dovremmo essere più tranquilli ok prima dopo prima dopo ok siamo a posto per ora per quanto riguarda le luci andiamo un attimo a lavorare sul cielo allora ora dobbiamo metterci questo cielo quindi anche qua andiamo a creare una maschera e andiamo a vedere se riusciamo anche qui con un gradiente da bianco a nero ad andare a sfumare per bene ora si tratta di capire da dove partire e dove arrivare in questa sfumatura allora questo è il cielo ok quindi allora sicuramente dobbiamo andare a sfumare in maniera morbida se parto troppo sotto diventa troppo chiaro quindi devo cercare una via di mezzo però il problema è che è difficile fare quest'unione in modo sufficientemente graduale perché c'è troppa differenza in questo momento tra cielo e primo piano quindi devo fare prima una cosa fatemi spegnere un secondo questo livello ho bisogno di andare a scurire un po' il primo piano perché altrimenti è troppo chiaro vedete rispetto al cielo e non riuscirò mai ad avere un'unione abbastanza ragionevole quindi mi vado a mettere qua sotto in maniera da andare a intervenire soltanto sul primo piano con una curva e questa curva e questa curva vogliamo andare a scurire un pochino vediamo un po' ok vedete già già è un po' meglio adesso andiamo a vedere di rifare questo gradiente prima o dopo vedete ora qua ci siamo questo sarebbe il livello con il cielo io non lo sto prendendo si tratta di decidere come gestire qua l'orizzonte allora in questo momento vedete questa è l'immagine di primo piano quindi questo io lo sto prendendo dal primo piano se lo prendessi dal cielo sarebbe così quindi qui sarebbe molto più scuro ma poi avrei tutto il primo piano completamente nero quindi o faccio un gradiente di questo tipo che come vedete va in qualche maniera a terminare prima quindi tutto quello che c'è da qua in giù lo prendo dal primo piano e soltanto la parte superiore la prendo dal cielo oppure vado a fare un gradiente che parte più in basso quindi mi va a prendere una porzione maggiore di cielo poi però come vedete vado a scurire molto tutto e diventa difficile fare quest'unione io lo lascerei più così poi andremo a intervenire su questa montagna se è troppo chiara comunque abbiamo recuperato direi vedete questo era il cielo questo è il nuovo cielo abbiamo recuperato tutto quello che dovevamo l'unione è naturale perché questo era proprio il cielo del primo piano quindi insomma lì lo stiamo andando a intervenire il gradiente opera qua su più in alto quindi direi che per ora va abbastanza bene ora entriamo ancora qua nel livello del cielo e andiamo anche un pochino a fare un'altra curva quindi qui siamo dentro al gruppo cielo quindi sto lavorando sul cielo e anche qua voglio andare a scurire un pochino il cielo però quindi vediamo un attimo ok ok io io che può andare va bene sono andando a regolare un pochino questa curva vedete lo posso fare con le freccette sono andando a scurire ulteriormente sono andando a abbassare questo punto per avere, vedete, cercando una transizione più morbida possibile vi faccio vedere il primo e il dopo ora qua è questione di microregolazioni vedete qua così ancora è molto chiaro per cui lo stacco con il cielo è un po' netto ecco così sto andando a scurire un po' il primo piano questa è una cosa che va fatta con calma cioè una volta fatta l'unione generale poi si tratta di fare una sorta di fine tuning della luminosità del primo piano e della luminosità del cielo fino a che la cosa non funzioni fino a che non siano ben amalgamati ok allora diciamo che siamo abbastanza contenti dove siamo arrivati fino a qua ovviamente non abbiamo neanche lontanamente finito facciamo una cosa fatemi duplicare l'oggetto diciamo iniziale lo riapro un attimo in camera raw facendo doppio click e lo vado a resettare così ci ricordiamo da dove siamo partiti questa era l'immagine di partenza a questo punto questa la posso anche rasterizzare in maniera che occupi un pochino meno spazio questa la richiamo la rinomino originale già che ci sono fatemi salvare cosa stiamo facendo visto che insomma non si sa mai qua dentro no allora salviamo desktop tmp salviamo questo psd non si sa mai se non si sa mai dovesse crescere photoshop dovremmo ricominciare tutto da capo vediamo un po' che abbiamo fatto allora abbiamo aggiunto le luci poi abbiamo aggiunto il cielo questo poi abbiamo scurito il primo piano per uniformarlo un pochino poi abbiamo scurito il cielo per renderlo un pochino intenso un po' più drammatico quindi finora siamo passati da un'immagine di partenza che era questa ad un'immagine che è questa direi che stiamo andando nella direzione desiderata da me poi è tutto soggettivo magari a voi fa schifo ma siete liberi naturalmente grossi problemi di unione io in questo momento non ne vedo però è bene andare a controllare il cielo agisce da qua in su quindi diciamo mi sembra che sia tutto molto tranquillo naturale per quanto riguarda le luci l'abbiamo fatto con una discreta attenzione forse vedete che ancora c'è un po' di illuminazione che si potrebbe forse vedete qua c'è una zona di separazione ritorniamo su questa maschera ancora con un pennello opacità 100% flusso 70% no scusate con il nero con il nero voglio ancora non voglio andare a schiarire questa parte quindi vado ancora a togliere questa parte dalla maschera delle luci perché me lo andrebbe a schiarire io questa questa transizione qua diciamo non voglio voglio le luci sotto ma non voglio che mi vada a schiarire questa parte l'avevo fatta questa maschera ve la ricordate eccola qua la faccio vedere eccola però forse non ero stato abbastanza deciso in quella zona ok direi che ora ci siamo va bene adesso facciamo una cosa che forse a qualcuno non piacerà ma ve la faccio vedere comunque come tecnica mi piacerebbe che in questo cielo ci fossero un po' di stelle però non ci sono perché le stelle erano più tardi ora io non ho atteso le stelle allora se avessi avuto diciamo grande fiducia in questo scatto questa è una foto che vi sto facendo vedere a scopo didattico però insomma non è una foto pazzesca diciamo epica che finirà nel mio portfolio è una foto carina diciamo così ragionevole ma insomma non è una foto sulla quale ho grandi aspettative se avessi avuto grandi aspettative su questo scatto avrei aspettato il ben oltre il tramonto l'ora blu avrei aspettato la notte peraltro il cielo era limpidissimo quindi si potevano fotografare le stelle poi avrei fotografato le stelle con la macchina nella stessa posizione normalmente vado a nastrare la parte inferiore in maniera da avere un po' meno riflessi e fotografare le stelle e poi sarei andato a unire le stelle con questa immagine questo non l'ho fatto perché non ne avevo grande voglia perché era un freddo incredibile come vi dicevo ero surgelato c'era un vento pazzesco e tutta sommata non avevo non pensavo che ne valesse la pena per questa foto cioè nonostante vorrei andarci ad aggiungere le stelle come farei se avessi atteso ok quindi supponiamo ora per un istante che io abbia aspettato la notte e abbia fotografato le stelle adesso avrei uno scatto con le stelle qua su il cielo nero ovviamente e le stelle da andare a unire a questo non ce l'ho me lo vado a prendere da un altro cielo stellato nella mia libreria dei cieli ripeto qualcuno potrebbe opporsi a questa pratica diciamo invasiva di post produzione io non ho problemi talvolta mi capita di fare queste operazioni quando lo faccio lo dichiaro naturalmente apertamente preferisco in generale utilizzare lo stesso cielo scattato nello stesso luogo quindi preferisco attendere e mettere insieme lo stesso cielo ma non sempre lo faccio perché dipende non sempre c'è la possibilità di farlo ci sono le condizioni atmosferiche quindi mi capita anche di unire un cielo che è stato scattato in un posto diverso in un momento diverso e questo è il caso di questa situazione ma ve lo faccio vedere perché mi piace comunque cercare di insegnarvi la tecnica in maniera che poi voi la possiate applicare se ritenete o rigettare se non vi piace dove sta il mio cielo deve essere da queste parti qua probabilmente è questo vediamo un po' se è questo eccolo qua qua c'è un bel cielo stellato scattato da qualche altra parte allora mi sono aperto il psd me lo copio command a command c me lo chiudo e me lo vado a incollare qua eccolo qua quindi ora abbiamo il nostro cielo stellato mettiamolo dentro a un gruppo che chiamiamo stelle sars no sars era un'altra cosa più brutta stars ok e questo è il nostro starry sky cielo stellato benissimo non mi ricordo neanche da dove viene questo cielo stellato allora innanzitutto andiamocelo un pochino a ingrandire command t e tenendo premuto il tasto alt lo vado un po' a riscalare in maniera che riempa il mio fotogramma ok spegniamolo e cominciamo a farla apparire e poi perfezioneremo tutto anche qua allora ci sono vari modi di unire un cielo stellato ad un primo piano sono tutti spiegati in grandissimo dettaglio nel mio videocorso di fotografia notturna nel mio videocorso fotografia notturna parliamo proprio chiaramente delle stelle di come uscire e unire le stelle al primo piano vi faccio vedere diversi metodi proprio diverse strategie completamente diverse ci sono diverse tecniche diverse scuole di pensiero ognuna si applica meglio ad un caso rispetto ad un altro un modo è quello di prendere proprio il cielo e andarlo a incollare sul primo piano ma questo farebbe sparire il nostro cielo no? del tramonto cioè in pratica io potrei ora diciamo non lo faccio ma insomma vi faccio vedere quale sarebbe l'idea io potrei andare a farmi una selezione del cielo ora sto facendo brutale 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 ok? andare a mettere creare una maschera che faccia comparire il mio cielo stellato sopra a questo poi chiaramente si tratta di uniformare le due cose amalgamare eccetera eccetera d'accordo? questa è una strategia ovviamente non può essere questo il risultato è una tecnica che si usa quando uno vuole proprio il cielo stellato punto e basta si potrebbe fare ovviamente avrei dovuto fare le cose diverse io in realtà sono arrivato qua aggiustandomi questo cielo del tramonto questo blu perché me lo voglio conservare non perché lo voglio buttare via quindi non voglio seguire questa linea che però ripeto nelle fotografie notturne proprio con il cielo notturno spesso è quello che si fa io vi rimando al mio videocorso di fotografia notturna se siete interessati a queste tecniche invece voglio far comparire le stelle su questo cielo e quindi ancora una volta che cosa faccio vado sul mio livello stelle e le vado a impostare in modalità schiarisci ora è attivo ecco vedete che già mi è apparsa qualche stella prima dopo magicamente ora le stelle sono apparse anche sulle case mi piace sempre quando succedono queste cose ora piano piano ci sistemiamo tutto ok qualche stella eccola qua è già andata a comparire ora la vogliamo un pochino evidenziare allora intanto non le vogliamo le stelle qua giù quindi facciamo quello che abbiamo fatto prima andiamo un attimo sul livello di sfondo se vogliamo spegniamo tutto andiamoci a fare una maschera rapida rapidissima direi e applichiamocela sul gruppo stelle così intanto non abbiamo le stelle qua sotto ok ce le abbiamo solamente diciamo nella parte del cielo bene già è qualcosa poi prendiamoci comunque un pennello creiamo un'altra maschera e con un altro pennello nero 100% di flusso e di opacità andiamo a spegnere le stelle che non hanno senso tipo queste qua sotto no non le vogliamo vedere qui è troppo chiaro non le vedremmo mai le stelle in questa parte inferiore del cielo quindi qui le andiamo proprio direttamente a eliminare no queste qua non sono realistiche c'è troppa luce lì troppo chiaro le queste le potremmo ancora vedere quindi le lasciamo va bene quindi ancora una volta ho due maschere che in qualche maniera si intersecano no c'è la maschera superiore che mi seleziona tutto il cielo e con la maschera sottostante questa vado a escludere le stelle che non voglio ok adesso però quelle che voglio le vorrei un tantinello di più allora andiamo a fare così creiamoci qua dentro un nuovo livello di regolazione livelli clippato al livello inferiore così lavora solo nella maschera del livello inferiore e qua quello che voglio fare è andare a creare un po' di contrasto in questo livello vedete che stanno cominciando a comparire sempre di più sto contrastando da pazzi l'effetto di quello che sto facendo sul livello inferiore se tolgo tutte le maschere e rimetto questo livello in modalità normale ecco vedete guardate con essenza questo livello prima dopo lo sto contrastando in maniera micidiale ok perché perché così le stelle diventano più brillanti e quindi in modalità schiarisci ora riattivo tutte le maschere vedete mi appaiono di più prima dopo ok ho evidenziato insomma ho enfatizzato le stelle il più possibile vediamo se questo ok direi che ci siamo poi lo possiamo andare a regolare anche successivamente va bene allora qua siamo a posto andiamo tanto che salviamo in background ci stiamo avvicinando abbastanza all'immagine finale andiamo a rimuovere a risolvere un po' di problemi qua sotto posso farlo direttamente qui dopo il livello curve posso andare a creare un nuovo livello clone un livello vuoto mi vado a prendere il timbro clone campiona dal livello attuale sotto spegniamo tutti i livelli sopra e vado a clonare ora qua c'è il solito lavoro divertentissimo io preferisco clonare con un flusso un po' basso facciamo 30 50% qui campiono e clono e volevare un po' di robaccia questi pali della luce questa casa questa luce ok io preferisco clonare sempre in maniera un po' graduale quindi con un flusso un po' basso in maniera da poterlo fare in modo incrementale via via tutta questa roba ora io forse non riesco a farlo perfettamente qua il motivo è che non vedo chiaramente perché ho un faro puntato in faccia per registrarvi questo tutorial altrimenti voi non saresti in grado di vedermi come vedete è giorno ragazzi sono le 2-3 del pomeriggio le 4 del pomeriggio io ho delle tendine alle mie spalle che oscurano quasi tutto ho soltanto lasciata aperta l'ultima per un po' di luce ambiente ma quando faccio post produzione sono in una cripta in una grotta completamente buia ora in questo momento però io ho un faro puntato in faccia per cui fatico a vedere lo schermo nelle zone più scure quindi abbiate pazienza se non riesco a farlo per bene immaginatevi che sia fatto bene questa casa pure non mi piace voglio eliminare un plenamento mi dispiace per il proprietario che avrà investito tanta fatica e risparmio per costruirla io gliela abbatto così scusate se sembra che faccio il matto con la testa è solo perché sto cercando di evitare questa luce per clonare in maniera più decente possibile non sono impazzito ok prendetevi il vostro tempo nel clonare nelle nuove nuovi videocorsi di esercitazioni cioè un nuovo videocorso di esercitazioni su Photoshop anche naturalmente un nuovo videocorso di esercitazioni su Lightroom uno degli esercizi che facciamo è proprio sul timbro clone non è un esercizio così banale come potrebbe sembrare insomma è una cosa che va fatta con calma va bene il risultato sicuramente non è non è perfetto ma ce lo facciamo andare bene riaccendiamo tutto non ce lo facciamo andare bene perché ancora questo diciamo questo lo stiamo prendendo un po' da qua quindi questo non mi va bene non mi piace tanto perché lo sto prendendo anche dal livello delle luci vedete allora forse sarebbe stato meglio clonare sopra il livello delle luci questo cambia poco ne faccio un altro che mi va a rimuovere questa parte che ho impropriamente illuminato oppure potrei anche evitare di illuminarla andando a correggere la maschera del livello delle luci sono sempre mille modi di raggiungere lo stesso risultato in questo caso facciamo tutto in due voglio anche evitare quindi ora prendo un pennello nero e con il nero non voglio andare a illuminare questa parte questa parte era schiarita dal livello luci aveva questa parte più chiara ma non lo voglio quindi sto andando a modificare la maschera del livello luci per evitare di andare a schiarire questa parte in basso perché non c'è motivo di attirare l'attenzione su questa zona dell'immagine a questo punto vi potreste domandare ma questa che la lasciamo a fare domanda legittima ma che ne dita leviamo questa parte ciao a lei e andiamo leggermente a sfumare prima e dopo le luci ok questo chiamiamo oloclone cerchiamo di tenere tutto più o meno organizzato altrimenti poi allora questo era un livello di curve che scuriva quindi questo lo chiamiamo scurisce il primo piano darken foreground questo qui scuriva no 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 questo qui enfatizzava contrast contrast contrastava le stelle questo qua scuriva il cielo ok è chiaro che uno può sempre riaprirlo per andare a vedere cosa fa ma insomma cerchiamo di tenere le cose minimamente organizzate vi darò insieme a questo tutorial anche il file psd così se volete provare a rivedere alcune cose potete farlo scusate sono un attimo qua giù perché qua c'è ancora un po' di roba che non mi va di tenere queste lucettine queste cose voglio andarle a clonare ora poi dopo la taglio corta insomma voglio dire la pianto perché io potrei andare avanti ore d'altra parte è importante eliminare tutti gli elementi di disturbo insomma questa è una cosa che va fatta con calma ora però diciamo insomma davvero rischia questo tutorial rischia di durare ore oggi è giorno oggi è 20 dicembre questo tutorial di Natale rischia di finire con la cena di Natale quindi cerco di velocizzare un pochettino ok quello che ancora non mi piace è questa parte che è troppo chiara quindi questa appartiene al 100% al primo piano quindi devo andarmi a fare un'altra curva e andare a scurire un pochino ancora guardiamo questa parte qua allora invertiamo la maschera e poi con un pennello un po' più grandino bianco flusso al 20% andiamo piano piano a farci una maschera qua ecco che scurisca un pochino vedete questa porzione dell'immagine perché altrimenti anche qua è troppo chiara e la transizione col cielo e il primo piano mi sembra poco naturale andiamo piano piano andiamo a sfumare 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 anche questa è una cosa che andrebbe fatta con calma andiamo a sfumare per rendere la transizione il più credibile possibile tutto questo come sapete io sto utilizzando una tavoletta grafica e questo è il motivo per cui riesco ad avere un po' di sensibilità alla pressione se utilizzate il mouse dovete lavorare molto con il flusso e con l'opacità anche questi sono concetti che affrontiamo nei nostri videocorsi di postproduzione con Lightroom e con Photoshop perché nei videocorsi di esercitazione un'esercitazione ancora nel videocorso di postproduzione con Photoshop è proprio lavorare bene col flusso e l'opacità sia col mouse che con la tavoletta grafica è molto importante per andare a sfumare e quindi a rendere le transizioni naturali vedete sto andando a sfumare questo qua lo chiamiamo darken scurisci questa specie di nebbia che c'è ok ancora sul primo piano voglio fare un'altra cosa fatemi spegnere tutto il resto crea un nuovo livello command alt shift e stampo tutto questo lo chiamo high pass hp cioè voglio andare a tirare fuori un po' di dettaglio di nitidezza con il filtro high pass sul primo piano mettiamolo con raggio 3 cambiamo la modalità di fusione su luce soffusa oppure sovrapponi riaccendiamo tutto il resto vediamo un po' prima dopo vedete l'effetto prima dopo prima dopo lo posso anche evidenziare ancora di più passando da luce soffusa a sovrapponi che è un po' più intenso come effetto prima è un aumento di nitidezza non è intenso come mi aspetterei c'è ma non siamo nel punto giusto sì queste sono le luci c'è stelle non ci interessano il fatto è che con il livello luci molto di questo viene preso dal livello luci perché è più chiaro del livello sottostante vedete quindi anche questa parte un po' anche i bordi vengono presi dal livello luci questo è il motivo per cui questo effetto c'è se noi andiamo a ingrandire c'è vedete prima e dopo ma non è tutto sommato intenso come vorrei allora facciamo una cosa lo andiamo a rifare sopra al livello luci lo metto qua sopra command alt shift e filtro altro high pass ok luce soffusa riattiviamoci pure i livelli sopra quindi non ci interessano andiamo a ingrandire un pochino e ora andiamo a regolare eventualmente prima vedete ora è molto più intenso quindi questo si chiama high pass molto più intenso perché adesso l'ho messo sopra al livello luci e quindi vado a prendere anche la parte che in questa zona si prendeva dalle luci mi pare che vada bene eventualmente si può diminuire un pochino diminuendo l'opacità ma insomma mi sembra che direi che va bene così come naturalmente sopra questo non agisce non c'è bisogno che io vada esplicitamente a mascherare perché sopra ho già il cielo la maschera del cielo eccetera quindi qua sopra prendiamo un altro file no cioè da questa maschera vedete quindi diciamo in qualche modo stiamo prendendo questo quindi non c'è bisogno di andare esplicitamente a mascherare il livello high pass perché mettendolo qua sotto agisce solo da sotto da lì in giù perché sopra poi ci andiamo a sopraporre il cielo ok io direi che siamo vicini alla conclusione di questa foto guardiamola un attimo un pochino in prospettiva direi che ci siamo abbastanza a questo punto quello che io farei alcune poche tanto salvare pochi altri aggiustamenti li farei con un plug-in anzi vi faccio vedere con un plug-in e poi magari lo facciamo anche fuori dal plug-in un plug-in che utilizzerei è la NIC collection color fx pro perché è un modo rapido di dare un po' quel contrasto finale e vi dico come lo utilizzerei proprio per finalizzare la foto rapidamente perché questo mi consente color fx pro mi consente di fare un paio di cose in maniera molto molto veloce prima cosa pro contrast ecco aggiungere un pochino di dynamic contrast ecco è questa sorta di contrasto sui mezzi toni va bene così poi un'altra cosa che farei è aggiungere un altro filtro con il filtro contrasto tonale lo resetto completamente questo è un contrasto che però divide tra luci mezzi toni e ombre e qua andrei a dare un pochino di contrasto ancora alle ombre ecco qua vedete poco poco 5 prima dopo vedete prima dopo un po' un aumento di contrasto piccolo ma significativo nelle ombre un'altra cosa che andrei a fare una cosa che vi potrebbe sembrare un po' strana andrei a aggiungere un filtro polarizzatore che non utilizzerei mai ovviamente per scattare in queste condizioni ma che praticamente ha l'effetto vedete di enfatizzare il blu cioè enfatizzare un pochino questo cielo blu prima dopo prima dopo ok vedete e queste sono sono ecco poi faccio ok questi sono degli aggiustamenti molto rapidi ora andiamo a vedere il prima e il dopo di tutti e tre ritorniamo in photoshop questo sarebbe il nostro filtro color fx pro prima dopo prima dopo ecco forse è un po' intenso posso ridurre l'opacità magari al 70% prima dopo prima dopo la stessa cosa la potrei fare senza utilizzare un filtro all'interno di photoshop facciamo la stessa cosa praticamente all'interno di photoshop tutta questa fatica lo butto e invece facciamo così andiamo a crearci per esempio il contrasto sui mezzi toni che ho fatto con il dynamic contrast di color fx pro come lo potrei fare in photoshop facendo un contrasto con una maschera sui mezzi toni quindi vado a fare command click sul canale rgb e creo una nuova maschera questa è una maschera sulle luci ok la duplico la duplico stavo dicendo la inverto questa è una maschera sulle ombre poi seleziono tutto command alt sottraggo le luci sottraggo le ombre e adesso ho caricato una maschera sui mezzi toni vado a creare una nuova curva ecco che questa nuova curva fuori da tutto questa nuova curva eccola qua lavora soltanto sui mezzi toni ora queste due non mi servono più le posso anche buttare per non ingrandire inutilmente il file adesso con questa curva vado ad aumentare il contrasto ecco fatto questo contrasto che vado ad aumentare come vedete lavora solo sui mezzi toni ecco qua molto simile al dynamic contrast di color fx pro tutte queste cose ragazzi se non vi sono chiare utilizzano le maschere di luminosità tutte cose che noi studiamo e analizziamo e impariamo utilizzare a perfezione nel videocorso di post produzione con photoshop va bene ecco fatto quindi questo lo posso chiamare mid tone contrast cioè contrasto sui mezzi toni che altro ho fatto quel contrasto sulle ombre naturalmente anche quello lo posso fare potevo non buttare la maschera non fa niente la ricreo questa è una maschera sulle luci ora creo una curva ora questa curva viene applicata ad una maschera sulle luci la inverto diventa una maschera sulle ombre apro un livello curve e vado a contrastarmi le ombre io voglio che questa agisca soltanto sulle cose più scure proprio ok questa diventa una maschera sulle ombre ora se io mi vado ho aperto per sbaglio un livello esposizione scusate fatemi caricare questa maschera volevo aprire un livello curve ho cliccato male ok ora butto il livello esposizione ecco qua la maschera ce l'ho sul livello curve ecco adesso si vado a fare una curva che aumenta il contrasto questo contrasto lo vado ad aumentare vedete soltanto nelle ombre perché qua sono andate a caricare solo le ombre più scure molto simile a quello che facevo qua prima con il tonal contrast questo lo chiamiamo contrasto ombre contrast shadows enfatizzare il blu ma niente di più facile posso prendermi un livello tonalità saturazione andare a selezionarmi i blu me li posso anche proprio campionare con il contacocce shift clic più volte sul cielo per andarmi a campionare i blu e adesso voglio magari andare a aumentare un pochino la saturazione diminuire forse un pochino la luminosità tutto questo lo voglio fare solamente nella parte superiore del cielo quindi posso crearmi un gradiente che va a sfumare e ad applicare soltanto al cielo ok se è troppo intenso posso o entrare ancora nella tonalità saturazione sui miei blu e andare a modificare magari più 5 meno 5 oppure variare l'opacità del livello ok questo lo possiamo chiamare intensify intensify blues amici ci siamo non so quanto è dura non so quanto è che stiamo qua a chiacchierare un'ora e dieci minuti ragazzi è stato più lungo che è previsto vediamo un po' spero di non avervi annoiato troppo vediamo un po' dove siamo arrivati e dove siamo partiti e dove siamo arrivati il tutto è ancora un po' scuro per me ok quindi facciamo voglio fare un'ultima cosa voglio creare un nuovo livello vi insegno un nuovo trucchetto ok questo è un nuovo livello non faccio di regolazione livelli cioè il mio Instagram non faccio nulla vado a cambiare la modalità diffusione su screen credo che si chiami me lo ricordo in italiano è quello dopo il livello schiarisci è un livello che va a schiarire ovviamente così è troppo ma abbassiamo l'opacità al 20% prima o dopo vedete vado a schiarire un po' tutto anche 30% però voglio stare attento a un paio di cose se no 30% forse è troppo prima non voglio perdere contrasto quindi vado anche ad aumentare il contrasto nello stesso livello quindi ora questo livello mi schiarisce e mi aumenta il contrasto ok cosa molto molto importante schiarire senza perdere contrasto e altra cosa non voglio applicarlo al cielo quindi voglio farmi un bel gradiente morbido morbido che da bianco sotto diventa nero sopra estremamente morbido vedete primo dopo ecco fatto e vado progressivamente a schiarire il primo piano se è troppo poco aumento l'opacità 40% se è troppa la diminuisco forse questo lo posso terminare questo gradiente poco poco prima eccolo qua per non andare a schiarire questa parte qua prima dopo e questo lo chiamiamo schiarisci e incontra schiarisci e contrasta quindi il mio livello in modalità screen schiarisce siccome dentro al livello io sono andato a vedete a contrastare schiarisce e contrasta quindi diciamo è un modo di schiarire l'immagine senza perdere contrasto va bene salvo la pianto anche se appunto il selle rifiniture io andrei avanti ancora a lungo in realtà quello che io vi consiglio di fare quello che io a questo punto farei se fosse diciamo sì la mia foto cioè la mia foto ma insomma diciamo se dovessi tirarne fuori qualcosa di buono la chiuderei andrei a fare altro farei un'altra foto oppure altro completamente riaprirei la foto domani magari e farei un po' di fine tuning domani cioè magari ecco questo 40% 30% ora non sono in grado di stabilirlo perché è troppo tempo che vedo che sto guardando questa foto e mi sono abituato a quello che sto che sto vedendo se domani andassi a riaprire questa immagine sicuramente vedrei dei problemi che ora non vedo e quindi li potrei andare a correggere quindi sicuramente questa foto ora non è perfetta ma ci sono un sacco di problemi a volte enormi a volte ci sono degli aloni uno non li vede perché a forza di vedere la stessa foto ci si abitua quindi la cosa migliore è chiuderla dimenticarsela riaprirla il giorno dopo due giorni dopo e andare a correggere possiamo tornare qua e andare a fare tutte quelle piccole correzioni del caso per renderla in qualche maniera perfetta ecco il vantaggio di non utilizzare i plugin di utilizzare quest'altro metodo per esempio per il contrasto per le ombre eccetera è che noi possiamo anche tornare qua sotto e fare delle modifiche mentre invece se utilizziamo il plugin abbiamo un livello di pixel stampato qua sopra e indietro non ci possiamo più tornare almeno ricancellarlo e ricrearlo mentre invece se io adesso mi rendessi conto che questo contrasto sulle stelle è troppo vedete ci posso tornare sopra e andare a diminuirlo se le stelle sono troppo intense vado a diminuire magari imposto al 50% quel livello ecco che le stelle sono meno prima erano così adesso è così capite questa è una cosa sulla quale posso tornare forse ora non mi rendo conto che le stelle sono troppo intense facciamo 80% domani posso tornarci sopra e andare a modificarlo è sempre importante il più possibile avere la possibilità di tornare indietro e fare un fine tuning di quello che si è fatto va bene allora c'era questo punto noi ripartiamo dal principio questa era l'immagine di partenza questa è l'immagine modificata in camera raw poi siamo andati ad accendere le luci scusate ad accendere le luci ecco con due maschine naturalmente poi siamo andati a scurire il primo piano abbiamo clonato un po' di elementi di disturbo abbiamo scurito la nebbia non esattamente in quest'ordine abbiamo clonato un altro po' di elementi di disturbo qua sotto filtro nitidezza high pass sul primo piano poi abbiamo fuso il cielo dall'altro scatto poi abbiamo aggiunto il cielo stellato abbiamo aggiunto le stelle poi abbiamo aggiunto un contrasto sui mezzi toni un contrasto sulle ombre abbiamo intensificato i blu e abbiamo schiarito e contrastato un po' tutto questa è l'immagine di partenza questa è l'immagine di arrivo prima dopo prima e dopo bene qualunque cosa voi pensiate di questa immagine finale personalmente la ritengo ok non certo un capolavoro ma il motivo per cui vi ho registrato questo tutorial non è perché pensassi che la foto finale fosse un capolavoro come vi dicevo ero lì per fare altro il motivo è perché ho ritenuto che alcune di queste tecniche potessero essere utili da applicare alle vostre immagini quindi qualunque cosa voi pensiate della foto finale o delle tecniche ho utilizzato spero che questo tutorial sia stato utile per imparare qualche strumento che poi potrete applicare alle vostre immagini fotografiche spero anche che sia stata un'ora e un quarto un'ora e venti abbastanza piacevole io ragazzi a questo punto vi saluto vi auguro di cuore buon Natale pecora insieme a me state bene festeggiate ci vediamo presto sulla mia pagina facebook per nuovi tutorial nuove lezioni gratuite e naturalmente sulla pagina di emozioni fotografiche www.emozionifotografiche.org per tutti i miei numerosissimi videocorsi che vanno dalla fotografia di base alla tecnica fotografica post produzione basica base avanzata reportage notturna fotografia con lo smartphone e mille altri trovate tutti scontati su www.emozionifotografiche.org grazie di essere stati con noi ancora una volta di cuore e buone feste un abbraccio a tutti